Il Comune di Auletta Pertosa e la Fondazione Mida vogliono trasformare in oro il Parco Arruderi del Comune. Questo progetto raccoglie il seme della nostra speranza e anche il piacere dell'avventura e la passione per questo territorio. Io vorrei che l'Appennino Meridionale fosse il luogo di raccolta del meglio dell'intelligenza e delle immaginazioni in giro per il mondo.